Il Piemonte detiene circa il 70-80% e anche di più dei rifiuti radioattivi nucleari a livello nazionale. Oggi questo fa sì che il Piemonte abbia un importante compito che è quello di procedere alla fase di smantellamento degli impianti e di messa e mantenimento in sicurezza dei siti, in particolare parliamo di Trino, di Saluggia e di Bosco Marengo. Qual è a vostro avviso la principale criticità da affrontare in questo momento e come affrontarla? Criticità, secondo me, principali sono due collegate. Una è sicuramente fare una corretta informazione sulla situazione, nel senso che è necessario che la popolazione sia informata di quello che c'è in Piemonte e di come si intende affrontare la situazione. L'altro tema fondamentale è il fatto di dare dei numeri precisi, soprattutto sulle tempistiche relative ai cosiddetti siti di deposito temporaneo, perché ricordiamo che teoricamente Saluggia e Bosco Marengo sono siti di smaltimento di deposito temporaneo e per Bosco Marengo c'è anche una sentenza del TAR che dice che gli anni da intendere per temporaneità sono 20 e quindi questo dovrebbe porre dei seri limiti e soprattutto dettare il ritmo per i procedimenti che devono essere messi in atto, le norme che devono essere attuate, eccetera, eccetera. Queste, secondo me, sono le principali criticità. Sì, noi siamo contenti di aver affrontato da subito questo tema e, lo dico così, la maggior criticità è avere un sito come l'impianto Eurox di Saluggia che è a 20 metri dalla Dorabalta e detiene, secondo almeno i dati che abbiamo letto dal Parlamento, il 90% della radioattività ancora presente in Italia. Perché l'altro è un problema molto urgente che noi abbiamo nel tempo depositato, diciamo, le nostre scorie non solo nei siti temporanei, come diceva il Consigliere, ma soprattutto all'estero e oggi in qualche modo dobbiamo doppiamente risolvere il problema. Cioè, da una parte, mettere in sicurezza in un deposito nazionale di stoccaggio l'attuale radioattività ancora presente nel nostro territorio in siti inidonei e finalmente dichiarati inidonei anche dall'ISPRA. Dall'altra dobbiamo ricordare che la Francia pian piano riporterà qui le scorie che sono andate all'estero e il problema diventerà ancora più grande. Anche perché, quando si dice che il decommissioning piemontese è fermo, è fermo anche perché finché, di fatto, non ci sarà un sito nazionale di stoccaggio e finché non si faranno, così almeno ha deciso il Governo, gli ultimi, diciamo, trasporti speciali verso l'estero, non inizierà la fase di decommissioning del sito stesso. Qual è il nostro dubbio in più? Noi abbiamo paura che, finché non ci sarà l'individuazione del sito nazionale di stoccaggio, la messa in sicurezza delle stesse salugge e della stessa trino rischi di far diventare quel deposito che doveva essere temporaneo è un sito di fatto nazionale di stoccaggio, per definizione, ma soprattutto di fatto. La grande criticità, a nostro avviso, è il fatto che alla fine ci possa essere il problema di dove collocarlo perché obiettivamente il 70% o, come si diceva, fino al 90% probabilmente porta, almeno, quello che secondo noi sarà dura da affrontare se non ci sarà un lavoro chiaro, trasparente, anche abbastanza condiviso col territorio, a mio avviso creerà forti problematiche. E allora, come dicevano i colleghi, quello che emerge è la necessità di arrivare a un sito nazionale, a mio avviso, in modo più veloce possibile perché altrimenti il meccanismo di rischio sta nel fatto che nessuno lo vuole, si creano tensioni e alla fine non si arriva a una soluzione condivisa quando invece, a mio avviso, facendo interventi o sostanzialmente, con tutti i crismi, con tutte le qualità, chiaramente questi devono essere finanziati tra le altre cose, perché poi alla fine servono anche le risorse per arrivare a queste soluzioni, però alla fine allora poi si mette un punto fermo e una parola fine a tutto questo meccanismo di, diciamo così, di trasporti all'estero, di esportazione delle scorie, piuttosto che siti in stand by, come appunto possono essere Bosco o Saluggia, ma alla fine non c'è mai una situazione. Invece se si arriva a una situazione definitiva, credo che a questo punto, cioè una volta si fa la battaglia, una volta si fa il, si crea tra virgolette un po' di criticità, ma alla fine poi si arriva a una soluzione finale, come hanno fatto gli altri paesi tra l'altro, questo è l'elemento più importante. Sì, intanto ringrazio per questa occasione, molte cose sono state dette già dai miei colleghi, io su molte di queste concordo, credo che criticità siano due, intanto quella appunto di prospettiva, come ha detto già il consigliere Grimaldi, quello di risolvere definitivamente l'individuazione del sito nazionale, che dovrebbe essere individuato entro il 2025, mi pare, perché questo altrimenti, se non fosse, rischia di, come dire, compromettere le azioni che già sono in atto di messa in sicurezza. Il secondo aspetto è quello proprio delle azioni attuali di messa in sicurezza, perché Saluggia ad esempio è il sito più critico, perché contiene tra l'altro dei reflui liquidi che devono essere, come dire, stabilizzati, solidificati attraverso una relazione di impianto, come è stato scritto anche nella mozione che abbiamo presentato, deve essere cementificato. E tra l'altro Saluggia è anche percorso proprio perché è situato appunto in un posto non idoneo, perché è a 20 metri dall'Andorra Baltea e al confluenza anche di due canali, per cui zona esondabile che mette sempre a rischio, proprio per conformità fisica. Per cui io dico che le cose già in esse devono essere fatte bene, per cui devono essere trovate risorse per poter completare le opere già in programma ed evitare che poi si crei allarmismo dettato anche da dati di fatto. Ricordiamo la vicenda dei cinghiali radioattivi che si sono stati trovati poco tempo fa. Per cui credo che semplicemente le cose devono essere fatte bene sia nell'attualità e sia nella prospettiva attraverso un progetto serio di individuazione che, come ha detto Berruti, anche dovrebbe essere possibilmente condiviso in maniera trasparente e anche informando le popolazioni sui rischi reali. Bene, tutti avete sottolineato questa importanza e urgenza di individuare un sito di deposito nazionale delle scorie ormai riprocessate. Che cosa può fare la Regione Piemonte per accelerare questo processo affinché il Governo nazionale individui il sito? Comincia questa volta il Presidente Climani. Intanto noi crediamo che il Piemonte sia la regione più indicata per fare questo ragionamento perché se non si individua entro il prossimo anno, entro il 2025, dobbiamo realizzarlo. Entro il 2018 ritorneranno indietro, come dicevo, le scorie dalle Hav e dagli altri siti. Che cosa succede? Che se noi non individuiamo in fretta nei prossimi anni il sito e iniziamo a caratterizzarlo, c'è il rischio che la Regione Piemonte diventi di fatto ancora di più. Già se oggi detieni il 90% di quelle attualmente presenti in Italia, c'è il rischio che i nostri siti diventino effettivamente anche di nuovo la pattumiera di tutto quello che ritornerà indietro della Francia. Secondo punto, noi abbiamo la fortuna, mettiamola così, che il Presidente Chiamparino è Presidente dello Stato Regioni, e allora noi vogliamo evitare quello che è successo ormai quasi un decennio fa di tutta la vicenda che poi ha portato a Scanzano Ionico. Cioè da una parte noi abbiamo adesso delle linee di indirizzo dell'ISPRA che devono essere in qualche modo valutate diversamente, non sarebbe mai stato scelto con quelle caratteristiche il sito di Scanzano, così come oggi Saluggia non lo sarebbe, così come i siti vulcanici, come quelli troppo vicini al mare, così come quelli troppo vicini alle falde. Non parliamo di chi è in un triangolo d'acqua come Saluggia. Quindi, allora, io credo che lo Stato Regioni deve in fretta chiedere al Governo che Sogin da una parte e ISPRA dall'altra rispettino il cronoprogramma, si veda questa mappatura dei luoghi e inizi questo processo di decommissioning. Però, lo dico così, non sottovalutando anche alcuni errori. Guardate che noi in questi anni, molti dicono che abbiamo portato all'estero per abbassare il grado di pericolosità, in realtà non è così. Abbiamo certo stabilizzato alcuni magari componenti, insomma, più instabili, ma in realtà i rifiuti ritorneranno a essere dello stesso grado di pericolosità, cioè non è che passano dal terzo al secondo grado. Quindi c'è il rischio che noi continuiamo a pagare di fatto gli altri paesi per ospitare dei rifiuti che sono nostri. Secondo me è giusto che, come Italia, lo diceva prima anche il consigliere, ci assumiamo le responsabilità così come fanno altri paesi. Diciamo che molte cose le stiamo dicendo sostanzialmente, per cui ci troviamo d'accordo su queste linee. Io credo che il Piemonte, allora, innanzitutto c'è da puntualizzare una cosa, che l'elemento più importante dopo 25 anni o più è che comunque finalmente si sono individuati i criteri per l'individuazione del sito nazionale. Quindi partendo da questo principio, noi come Piemonte a questo punto dobbiamo solo verificare, come diceva il collega, che ci siano tutte le procedure. È chiaro che io penso che i criteri non debbano essere abbiamo la maggior parte dei rifiuti e quindi di conseguenza individuiamo. Io ribadisco, non è che dico Piemonte o Lombardia o che, io dico che l'importante è, con un'analisi attenta, con cognizione di causa, individuare veramente quello che possa essere il massimo dal punto di vista della sicurezza e soprattutto della compatibilità. Questo può essere il termine preciso. Dopodiché se questo è in Piemonte, ok, se può essere su scala nazionale in altre regioni, chiaramente deve essere individuato, questo deve essere fatto però nei tempi più rapidi possibili. E il Piemonte sostanzialmente su questo, poi ci mettiamo anche un pochino di politica, avendo anche il Presidente, tra l'altro il Presidente della Conferenza Stato-Regioni, ancora di più deve essere l'elemento su cui si possa basare ancora di più questo tipo di propulsione. Ecco, quindi io credo che questo sia l'elemento. E d'altro canto, compatibilmente con quelle che sono le situazioni nazionali, a livello, chiamiamolo chiaramente finanziario, però, che ci siano anche poi i fondi alla Sogin che possano in qualche modo sostenere tutto quello che è, tutto il lavoro di, diciamo così, di ricomposizione del materiale, di conferimento, ma anche di tutela sulla massima attenzione, perché poi alla fine, come diceva il collega prima, se poi succede che troviamo gli animali in qualche modo radiattivi, un motivo ci sarà, perché poi alla fine qui vuol dire che c'è anche magari a volte un po' di leggerezza e superficialità, e poi da lì allora nascono le tensioni, le paure, le preoccupazioni, le agitazioni da parte delle persone. Mentre se tutto è naturalmente fatto nel modo più assoluto, allora a questo punto noi ancora di più, visto che siamo regione, diciamo, corposa dal punto di vista della presenza, mettere anche le nostre professionalità a disposizione della, diciamo così, del sistema, ecco, legato al mondo dei rifiuti avviattivi. Sì, anche qua appunto ho già ascoltato un parere che io condivido. È chiaro che il fatto di avere la maggior parte delle scorie derivanti dell'orazione nucleare qua in Piemonte è già di per sé il primo motivo per cui il Piemonte deve essere promotore, diciamo, in prima persona, in primo grado della realizzazione, dell'individuazione del sito nazionale. Per cui è chiaro che corre fare una forte pressione, diciamo, presso il governo a parte del Presidente, il nostro Presidente, che è il Presidente appunto della Conferenza Stato-Regioni, ma anche noi, diciamo, nel nostro ruolo politico dobbiamo, come dire, deve essere agevolare queste azioni attraverso una massa critica che deve, come dire, contribuire ad accelerare questo percorso che è indispensabile, proprio per le ragioni che sono già state dette, per cui credo di sicuramente essere d'accordo con quanto è stato detto prima. Ma allora, come ruolo piemontese, secondo me, più che puntare esclusivamente sul povero Chiamparino, che già se la deve vedere con le questioni di bilancio, la cosa, secondo me, fondamentale è se tutte le forze politiche presenti in Consiglio vanno a stimolare i parlamentari, i propri rappresentanti a Roma, perché si decide di affrontare finalmente e seriamente la questione, perché qui continuiamo a tirare a campare e anche nei confronti di, comunque, direttive europee, perché l'obbligo è di presentare il piano nazionale entro la fine di quest'anno, quindi c'è già una direttiva europea che lo dice e la Regione non può fare altro che sollecitare sia dai suoi rappresentanti istituzionali sia attraverso tutte le forze politiche che la compongono. Il problema però è significativo perché, a mio personale parere, io ho studiato ingegneria nucleare, oggi in Italia non esiste più la possibilità di realizzare un sito nazionale, anzi, ad oggi in Europa non c'è nessun paese che abbia, a parte la Finlandia, definito già un proprio sito ufficiale, sono a vari livelli di individuazione, la Germania c'era quasi arrivata ma sta rivedendo un attimo alcune cose, quindi alcuni paesi come l'Olanda, il Belgio, eccetera, non hanno la possibilità di realizzarlo, quindi si porrà comunque un problema di livello complessivo che forse andrebbe affrontato a livello più alto europeo magari trovando un sito unico europeo, anche perché le quantità, la pericolosità è notevole ma le quantità sono tutto sommato contenute. L'altro aspetto importante è quello economico, ricordiamoci che noi abbiamo cominciato a pagare per lo smaltimento e il decommissioning fin da quando è partita la politica nucleare in Italia ancora oggi continuiamo a pagare in bolletta questo tipo di cose quindi io mi aspetto che non siano necessari fondi aggiuntivi visto che siamo in un ritardo epico perché questa cosa avrebbe dovuto essere stata fatta entro la fine degli anni 70 i soldi in più che si sono beccati negli ultimi 40 anni quelli devono più che bastare per definire le politiche e le metodologie per lo smaltimento definitivo e il decommissioning dei siti nucleari in Italia Bene Ecco, gli impianti nucleari sono sempre percepiti ovviamente come una criticità un aspetto pericoloso per il territorio ci chiediamo quali potrebbero essere però le possibili riconversioni di questi impianti per scopi di pubblica utilità ad esempio per Bosco Marengo si era parlato di realizzare dei laboratori di analisi radiologiche in particolare ritenete che possa essere percorribile questa strada? Consigliere Ottria Qua forse il consigliere Campo ha più possibilità di me di poterlo dire sicuramente sono percepiti come un problema questo è chiaro è già la parola stessa spaventa io non sono in grado ovviamente di dire con certezza se Bosco Marengo ad esempio dove è in corso appunto l'incorso di bonifica che mi pare dovrebbe essere completata entro il 2016 la cronoprogramma se non lo so possa essere convertito in laboratori di questo genere credo che è un compito che spetta agli enti preposti all'ARPA che forse credo che abbia fatto già degli studi su questo sicuramente potrebbe essere una possibilità che però ripeto andrà verificata con tutte le cautele è chiaro che questo è anche come dire un obiettivo che sicuramente bisogna darsi cioè per passare non solo dalla fase di emergenza ma alla fase appunto di proposituità perché poi cosa fare di questi luoghi fisicamente dovranno essere utilizzati per qualche scopo la sfida vera è proprio quella di renderli come dire compatibili con l'ambiente che li circonda ma non solo ma anche che possono avere cioè diventare da un problema un'opportunità a me fa piacere avere al tavolo un ingegnere nucleare perché obiettivamente anzi iniziamo ad ascoltarlo con una certa attenzione perché naturalmente non è il nostro mondo non nego che io mi sono documentato un pochino su queste cose come penso i colleghi e devo dire che ho scoperto delle cose anche interessanti vedo che in Germania una vecchia centrale nucleare è stata imitata a parco giochi il che questo nelle Filippine il Batan Nuclear Power Plant a 100 km da Manila come museo per l'energia nucleare in Francia l'acqua calda viene usata per le vasche dei Caimani a Fukushima si sta parlando di un impianto, la riconversione di un impianto geotermico quindi adesso onestamente vale un po' quello che dicevo prima cioè obiettivamente io credo che alla base di tutto ci sia un aspetto culturale che ha una sua importanza d'altro canto però anche l'aspetto chiaramente tecnico, tecnologico eccetera eccetera cioè adesso magari non uso termini propri però al lato pratico potrebbe, cioè se ci sono queste soluzioni o sono state adottate queste soluzioni voglio dire in paesi che tra l'altro non mi sembrano proprio gli ultimi paesi del pianeta a livello di importanza e chiaramente di livello per cui io penso che ogni soluzione possa essere importante e idonea naturalmente quello che necessita è che poi magari fra 50 anni non troviamo i coccodrilli di 50 metri adesso sto estremizzando però questo poi alla fine c'è le modificazioni genetiche poi abbiamo scoperto che magari c'era una falla ecco perché poi il vero problema a monte di tutto è questo allora è chiaro che le bonifiche sono importanti e poi tutto quello che ci sta attorno che chiaramente gli addetti ai lavori, gli esperti devono portarci dopodiché voglio dire se queste sono le prospettive diventa anche un aspetto culturale quello di, e vale il discorso iniziale, di un confronto di un lavoro anche importante perché il grande male tra virgolette di questo paese scusate la digressione è che io non sono contro il nucleare cioè io parto dal principio che voglio dire ce l'abbiamo, se passi il freso ce l'ha a 20 km quindi è quello che si è sempre detto cioè alla fine l'aria non ha i confini e le barriere quindi poi alla fine i problemi sono questi allora se possiamo andare su altre strade tanto meglio però credo che sia importante sempre di più lavorare veramente sull'informazione ma vale per questo ma vale per tantissime altre situazioni perché a questo punto io credo che l'informazione sia la base positiva sia la base di una crescita culturale e quindi come tale probabilmente se non si va verso il nucleare si andrà verso altre forme di energie che comunque sono quelle che vanno a beneficio del pianeta e sicuramente voglio dire se ce ne sono altre benvengano però alla fine il tutto sta lì a dimostrazione che ogni paese ha un po' la sua cultura e la sua posizione intanto dico che per tranquillizzare i nostri cittadini dovremmo dare applicazione delle leggi che abbiamo approvato fra cui la numero 5 del 2010 che era proprio sulla protezione ai rischi e l'esposizione appunto delle radiazioni ionizzanti e serviva appunto a garantire programmi di prevenzione a beneficio intanto dei lavoratori e dei cittadini questa non è mai stata applicata e credo così quanto l'elaborazione appunto di forma di maggior coinvolgimento delle popolazioni più direttamente coinvolte è il primo step però vi voglio essere sinceri a differenza di altri gruppi noi invece siamo anche ideologicamente contro in qualche modo la forma di creazione di quell'energia soprattutto per i costi di cui stiamo parlando dall'inizio di questa trasmissione cioè sono dei costi scaricate sulle generazioni future e proprio nell'individuazione anche di siti nazionali anche in campo europeo noi diciamoci la verità se parliamo di scuole di secondo grado stiamo parlando di stoccaggi di 100, 200, 300 anni quelli diciamo di più alto livello stiamo parlando di luoghi in cui l'uomo dovrebbe dimenticarsi addirittura l'esistenza di quel sito di stoccaggio perché ci vogliono millenni per in qualche modo arrivare al decommissioning allora arrivo alla domanda però che cosa fare di quei siti intanto dobbiamo dare la risposta andare fino in fondo e farli ridiventare prati perché questo è il punto in teoria il decommissioning finisce quando lì sopra ci rispunta un prato poi su quel prato si può fare tutta la narrazione possibile il bacino della Rur così come la discarica di Tel Aviv così come le nostre centrali qua per esempio delle fonderie sono diventati parchi benissimo l'importante però che si ricordi il monito alle generazioni future che quel costo è un costo che ad oggi non ci possiamo permettere è un costo esternalizzato ambientale ma è anche sulla salute dei cittadini il prossimo anno ci sarà i 70 anni di quello che è successo a Hiroshima e Nagasaki io credo che sia un monito per tutta l'umanità grazie ma allora sul riutilizzo delle strutture ha sostanzialmente ragione il consigliere Grimaldi cioè distinguiamo tra quelle tipo la centrale di Trino o anche Salugia dove ci sono le scorie più pericolose quindi i livelli di radioattività molto elevati però per le altre quelle che dovrebbero essere effettivamente strutture temporanee si fa una bonifica e sotto questo profilo non c'è molta differenza rispetto a un sito pericoloso dal punto di vista industriale chimico eccetera quindi se la bonifica viene fatta correttamente quel sito è riutilizzabile per qualsiasi destinazione d'uso per cui dire riutilizziamolo per qualcosa di collegato al tema vale la pena se c'è già lì magari un laboratorio con delle competenze con delle professionalità allora certo meriterebbe forse valorizzarlo però per il resto il decommissioning dovrebbe avere l'obiettivo di rendere i siti di nuovo utilizzabili per le centrali già esistenti il problema è un po' più significativo perché comunque diciamo che le linee guida attuali a livello internazionale sono che i siti dove ci sono le centrali si smantella quello che si può ma la parte centrale quella più contaminata si fa un sarcofago di cemento e si dimentica lì la questione tristemente è questa qua non perché non si possa smontare tutto ma perché lo smontare tutto diventa ulteriormente oneroso e complicato e si tratta comunque di rifiuti pericolosi del massimo livello quindi la problematica fondamentale è questa qua e che ad oggi comunque manca manca ancora veramente un approccio concreto e un piano effettivo con dei tempi e anche con delle risorse chiare per andare a risolvere il problema del nucleare italiano e anche con delle risorse chiare e anche con delle risorse chiare e anche con delle risorse chiare